Musica Ben trovati al TG6 dell'Aquila, l'apertura oggi ci porta a parlare subito della regione Abruzzo. Oggi alla Corte dei Conti dell'Aquila il presidente della regione Luciano D'Alfonso e l'assessore Silvio Paolucci hanno sottoposto ad un primo esame la parifica del rendiconto 2013 della regione Abruzzo. Ci racconta tutto Filippo Tronca. Giorno della verità, quella contabile almeno per la regione Abruzzo, oggi all'Aquila nella sede della Corte dei Conti di via Buccio d'Aranallo. Il presidente della regione Luciano D'Alfonso e l'assessore Silvio Paolucci insieme a tecnici e dirigenti si sono infatti sottoposti all'esame in contraddittorio della relazione da allegare alla parifica del rendiconto 2013 della regione. Ovvero al riaccertamento non fatto per il 2013 ma anche per il 2014 dei debiti pregressi, dei crediti non più esigibili, evenienza che il pronunciamento e le sentenze del 2015 della Corte dei Conti hanno considerato molto grave, tanto da rendere solo presunti con coperture incerte i bilanci. D'Alfonso è entrato nella sede di via Buccio d'Aranallo senza rilasciare dichiarazioni. L'assessore Paolucci sottolinea invece, prima di affrontare i giudici contabili, che è solo con questa giunta e questa maggioranza che la regione Abruzzo sta recuperando il tempo perduto con il riaccertamento contabile. Noi abbiamo fatto un lavoro cercando di recuperare il ritardo passato, tant'è che parliamo ancora di un bilancio a rendiconto dell'annualità 2013. Noi abbiamo avuto modo di fare sia il 2012 che il 2013, stiamo avviandoci a fare anche il riaccertamento delle siti del 2014 per proseguire e recuperare il tempo perso nel passato. E' chiaro che ci saranno, immagino, delle osservazioni, anche perché abbiamo trovato un bel po' di problemi con un bel po' di debiti e pertanto immagino che questi verranno riportati e che vi saranno integrazioni e suggerimenti. Però fa parte di una gestione passata, direi remota per me. Sul tavolo anche un'altra partita, quella del risanamento delle società partecipate. Anche qui la magistratura contabile aveva evidenziato nel luglio 2015 che buona parte di esse hanno bilanci in profondo rosso. Intanto che noi abbiamo scritto qualche verità in più sulle partecipate, persino finalmente iscrivendoli nei documenti di bilancio dell'approvato bilancio di previsione del 2016, anche in questo caso stiamo cercando di recuperare informazioni e trasparenze che erano piuttosto carenti nel passato. E ora la cronaca. Sono accusate di aver abbandonato rifiuti pericolosi e di aver sversato vernici, solventi e prodotti chimici le cinque persone rinviate a giudizio dopo l'operazione congiunta di forestali e agenti della Polizia Municipale dell'Aquila. Giorgio Alessandri. I forestali del Comando Provinciale dell'Aquila insieme agli agenti della Municipale del Capoluogo hanno provveduto, attraverso ditte specializzate, alla rimozione di oltre 65 metri cubi di rifiuti pericolosi, abbandonati, misti a terreno contaminato nelle frazioni di Onna, Colle e Brincioni, Pagliare di Sassa e San Giacomo. Dopo la caratterizzazione dei rifiuti rinvenuti e l'immediata messa in sicurezza dei siti, le istituzioni hanno proceduto a coordinare il lavoro della ditta specializzata alla bonifica dei luoghi inquinati da solventi, vernici, insetticidi e altro materiale altamente inquinante rinvenuto dagli uomini dell'aco forestale nel novembre 2013. L'attività dei forestali si è sviluppata su due canali, uno di Polizia Giudiziaria e l'altro di raccordo amministrativo tra gli enti diputati alla rimozione dei rifiuti smaltiti illecitamente e dall'alto potenziale inquinante per il contenimento del danno ambientale prodotto. Le indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila, Simonetta Ciccarelli, e svolti dagli agenti della forestale, diretti dal commissario capo Irene Sebastiani, nonché dalla Polizia Municipale, hanno portato al rinvio a giudizio di cinque persone per attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso tra loro e al sequestro cautelare di beni per circa 34.000 euro ai danni degli imputati. Immediata all'epoca dei fatti, inoltre, l'ordinanza del sindaco Massimo Cialente per la messa in sicurezza delle aree inquinate, con lo stanziamento di circa 12.000 euro per le prime attività di contenimento del danno ambientale. La diritta esecutrice ha trattato oltre 65 metri cubi di materiale inquinato e di terreno contaminato dallo sversamento delle sostanze contenute nei recipienti. A processo iniziato, il Comune dell'Aquila ha stanziato ulteriori 120.000 euro per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica definitiva delle aree inquinate, costituendosi parte civile in giudizio. E ora parliamo del piano della telefonia. Se ne è discusso in commissione in comune, il Comune dell'Aquila entra dunque nel merito nella commissione territorio di piano di telefonia mobile, che prevede l'accorpamento delle antenne a distanza di sicurezza da scuole e ospedali in servizio. Razionalizzare la localizzazione delle antenne di telefonia mobile, accorpando i trasmettitori delle varie compagnie, potenziare il segnale nei nuovi quartieri post-sismici del progetto case, garantendo ovviamente le distanze minime da scuole, presidi medici e altri siti sensibili. Questi alcuni dei contenuti del piano della telefonia mobile del Comune dell'Aquila, oggi oggetto di discussione nella commissione territorio. Tema più delicato le nuove richieste pervenute dalle compagnie telefoniche e, come prevedibile, le preoccupazioni esposte da più di un consigliere sugli effetti per la salute dell'inquinamento elettromagnetico. Ma a rassicurare tutti ci hanno pensato i tecnici della ASL e dell'ARTA convocati in commissione. Fermare stando la necessità di prevedere distanze minime dove occorre, hanno spiegato, in base agli studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non sono stati ad oggi dimostrati effetti cancerogeni dell'esposizione alle frequenze dell'antenne di telefonia. Ad essere potenzialmente cancerogeno è piuttosto il quotidiano utilizzo del nostro cellulare. Sì, nel piano di formazione della telefonia mobile del 2016, alcuni tralicci provvisori saranno trasformati in definitivi. Questo comporterà da un punto di vista economico che l'introito sarà riversato al Comune perché sorgeranno su suoli comunali. Quello che è a cuore alla Commissione è misurare il livello di inquinamento elettromagnetico e i danni per la salute del cittadino. Per questo i tecnici dell'ARTA, l'ente preposto alla misurazione, oltre ad illustrare i parametri di legge, hanno certificato, studi alla mano, che le correlazioni scientifiche che dimostrano che possono esserci danni alla salute riguardano soprattutto le emissioni a bassa frequenza, cioè quelle degli elettrodotti, le emissioni ad alta frequenza, quelle della telefonia mobile e quelle radio televisive, sostiene il medico competente dell'ASL, il tecnico dell'ARTA, non ci sono studi che dimostrano correlazioni. Proponiamo una nuova sollecitazione a che questo piano possa essere un piano diverso in relazione al fatto che non ci siano dei tralicci con degli enormi ripetitori, ma ci siano tante piccole stazioni ripetitori da poter mettere sugli edifici. Questo perché non per moltiplicare l'inquinamento elettromagnetico, ma per avere l'effetto assolutamente contrario, ovvero l'inquinamento elettromagnetico avviene quando ci sono grandi insediamenti. Mettendone tanti piccoli si riduce questo tipo di inquinamento e quindi si avrebbe l'effetto sicuramente benefico per la salute dei cittadini. E torniamo sul caso di Banca Etruria e non solo. Sarà necessario ancora qualche giorno per mettere a punto i decreti attuativi per i rimborsi agli obbligazionisti che hanno visto andare in fumo i loro risparmi con il salvataggio delle quattro banche, Banca Marche, Banca Etruria, Carichieti e Carife. È quanto ha affermato il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, a margine di un convegno sulla corruzione. È in atto un lavoro intenso con il Ministero dell'Economia per la stesura dei decreti, ha spiegato Cantone. Più i decreti saranno chiari, più riusciremo a gestire bene gli arbitrati. Quindi penso che se ci prenderemo qualche giorno in più sarà opportuno. Torniamo sul caso della sovrintendenza Chieti. Non è questione di Campanili. Il Comitato Aquilano di Possibile, la formazione politica che fa riferimento a Filippo Civati, interviene sugli scippi perpetrati ai danni dell'Aquila. Che senso ha ricostruire una città se poi viene svuotata di uffici e di lavoro? Sentiamo. In città non si placano le polemiche sugli scippi che si stanno consumando lentamente. Parliamo di Arap e sovrintendenza. Ad intervenire oggi è il Comitato Aquilano di Possibile, la formazione politica che fa capo a Pippo Civati. Le notizie degli ultimi giorni di uffici territoriali pubblici che dall'Aquila prendono altre strade, come la ministeriale sovrintendenza Abeap e la regionale Arap, sono soltanto le ultime, in ordine di tempo, di un disegno molto preciso di svuotamento di uffici e centri decisori, iniziato nell'immediato dopo terremoto, che però sta riuscendo ora al partito che contemporaneamente governa paese, regione e comune. Così, in una nota, il Comitato Aquilano di Possibile dice, affermando che è incredibile, come un disegno iniziato sette anni fa con i tentativi dei partiti di destra si stia perpetrando oggi con una sfacciata disinvoltura dal partito di governo. E non è una questione di campanili, fanno sapere come vogliono farla passare i maestri della distorsione della realtà, bensì di uffici, funzionari e lavoro, che sono andati e continuano ad andar via dal capoluogo di regione, che da una parte si vuole ricostruire fisicamente a parole, dall'altra si demolisce un atto dopo l'altro, con un avvilente squilibrio di intenzioni. Al lavoro che si sposta conseguentemente alle famiglie e ai lavoratori di questi uffici, chi ci pensa? Sovrintendenza archeologica, azienda regionale per le attività produttive, chissà domani quali altri. Per altro, affonda la nota, tutto spostato a senso unico verso i territori di origine dei principali esponenti del governo regionale e del suo principale partito, le cui deboli e sconclusionate repliche, certo, non possono smentire la realtà dei fatti e degli atti di governo e amministrativi. Nonostante tante chiacchiere, parole vuote ed annunci roboanti, la verità è che per questa città manca un progetto complessivo, di ampio respiro e a lungo termine. Esistono solo trovate estemporanee, come l'inutile ponte di fresco annuncio, ma la città ammonisce in conclusione il Comitato Cittadino di Possibile, l'unico ponte che serve è quello sul futuro, un futuro che non riguardi una città svuotata di funzioni, di lavoro e conseguentemente di persone. E su questo argomento sono tante le reazioni, una città in saldo, così appare ai nostri occhi lo spopolamento delle funzioni amministrative e culturali della città capoluogo di regione, con il trasferimento della sovrintendenza Chieti, unico caso in Italia. A prendere posizione con una durissima nota sono direttamente i funzionari del Miba Cabruzzo, una riforma, quest'ultima di Franceschini, che riforma quelle ancora in atto. Dietro parole magiche come olistiche, che indicano semplicemente la voce unica che riunisce le funzioni dell'archeologia, le belle arti e il paesaggio, si nascondono trappole per una tutela messa sotto mobbing. E l'autorevole voce di Tommaso Montanari a definirla tale sul Repubblica. Ma se la riforma in ambito nazionale, nella sua spina dorsale lascia amareggiati e perplessi, si legge questa vira bruscamente verso uno sdegnato affronto se si punta all'obiettivo alla nuova organizzazione abruzzese. Così constatiamo tristemente che la storica regia sovrintendenza all'arte medievale e moderna degli Abruzzi e Molise, nata nel 1924 all'Aquila, trova così il suo funerio epilogo. E anche la CISL torna su questo argomento. La decisione del governo di localizzare a Chieti e non all'Aquila la nuova sovrintendenza archeologica a Belle Arti e Paesaggio rischia di avere pesanti ripercussioni anche sul personale in servizio. E così la CISL, tramite il Vezio Sfarra e Michele Toskes, chiede di non spostare i lavoratori, di non trasferire i dipendenti della sovrintendenza. È il giorno della memoria. Tantissime le iniziative all'Aquila. Anche la Biblioteca Provinciale Tommasi e il Centro Ebraico di Pitignani di Roma hanno ricordato la Shoah assieme agli studenti delle scuole medie inferiori. Il servizio. Auschwitz. Solo quando nel mondo a tutti gli uomini sarà riconosciuta la dignità umana, solo allora potrete dimenticarci. La frase incisa sulla lapide del Sacrario e Caduti di Marzabotto a Bologna riassume in pieno il significato che hanno inteso infondere alla giornata della memoria l'Istituto Cinematografico Lanterna Magica dell'Aquila, la Biblioteca Salvatore Tommasi, il Centro Ebraico Pitignani di Roma. In una mattinata trascorsa con attenti e partecipi studenti delle scuole medie inferiori, tra dibattiti e testimonianze, la proiezione del film Giona che visse nella balena di Roberto Faenza, storia vera e struggente di Giona Obersky, ebreo-olandese deportato a quattro anni nel campo di Bergen-Belsen, insieme a tutta la sua famiglia. Un destino simile a quello patito dalla famiglia di Cleia Terracini, presidente del Centro Ebraico Pitignani. Suo nonno Avram Piperno, aquilano, fu restata a Roma dai nazifascisti, assieme a 16 amici e parenti, nell'ottobre 1945, deportata da Auschwitz, da cui non ha fatto ritorno. L'importanza è quella di far conoscere ai ragazzi i problemi che possono derivare da una discriminazione senza motivo di persone ritenute diverse da noi, per cui Progetto Memoria vuole inculcare nei ragazzi non la tolleranza, ma l'accettazione delle diversità. Io sono qui oggi in memoria di mio nonno, nato all'Aquila e purtroppo morto ad Auschwitz con tutta l'intera famiglia di mia madre. Mamma è stata l'unica superstite, ma ciò non toglie che nella nostra religione quando si brinda, si brinda con una parola le caime che significa la vita, per cui guardiamo indietro ma per vedere il futuro. Non per rimanere ancorati ai dolori antichi. I dolori antichi ci hanno insegnato il rispetto degli altri. E ora siamo alla pagina sportiva. Parliamo dell'Aquila Calcio tra mercato e attesa per la sentenza. Lunedì si conoscerà con ogni probabilità la sentenza di primo grado dell'inchiesta di Irti Soccer. L'Aquila Calcio intanto pensa al mercato. Quello di oggi potrebbe essere il giorno di Danilo Boulevardi. Domani si aggregherà in al gruppo. Invece l'ex difensore del Pescare Emanuele Pesoli, come ricorderete del serato nella scorsa settimana e poi fermo per un piccolo risentimento al polpaccio, da domani si aggregherà invece al gruppo. Giorgio Alessandri. E' attesa lunedì la sentenza di primo grado del processo d'Irti Soccer. Dopo la richiesta della Procura federale di 32 punti, poi corretti in 31, la società Rosso Blu vive questi giorni con grande apprezzione. Una richiesta abnorme che si spera sia drasticamente ridotta dai giudici. La squadra intanto è lontana dal clamore delle aule giudiziarie e pensa solo al risultato del campo, indipendentemente dal resto. Oggi intanto sul fronte mercato potrebbe essere il giorno di Danilo Boulevardi, il centrocampista ex Pescara a pallino da tempo del direttore sportivo Alessandro Battisti. Sul fronte delle uscite ha rescisso invece di comune accordo con il contratto con la società il giocatore Luigi Palestini. Domani intanto si aggregherà alla squadra per gli allenamenti il difensore ex Pescara Emanuele Pesoli, tesserato dal club aquilano la scorsa settimana e guarito completamente dal risentimento al polpaccio che lo aveva fatto fermare dopo i primi allenamenti con il Rosso Blu. Un rinforzo di esperienza dal quale ci si aspettano grandi cose in questi ultimi mesi del campionato. Il 7 febbraio torna una domenica fuori porta, la rassegna logastronomica itinerante ideata dall'Essa Di Giovacchino e Marco Signori. Dopo la pausa di gennaio ci sarà questo appuntamento ricco e goloso alla scoperta dell'azienda Faraone Vini e poi a Teramo invece i fuori portisti si incontreranno con il pluripremiato cioccolatiere Ezio Centini. Ci sarà anche come sempre il contest fotografico. È tutto, io vi ringrazio per averci seguito, grazie a tutti voi per la cortesia e attenzione. Vi invito a restare sintonizzati su TV6 per la nostra consueta programmazione. Arrivederci! Grazie a tutti!